A Prea Verona è il primo negozio monobrand PT Torino in via Quattro Spade. L'idea nasce da una stretta collaborazione ma anche da un rapporto di amicizia con Marco Di Carnaby che inizialmente acquistava il nostro prodotto per la sua boutique multibrand e visti i risultati abbiamo cominciato a parlare di questa collaborazione e a novembre abbiamo deciso insieme di dar vita al primo negozio. Siamo veramente contenti del risultato che Marco ha portato con il nostro aiuto ma devo ringraziare Marco per la riuscita di questo negozio dai primi dati oltre che di venduto ma soprattutto di riscontro da parte della città, siamo molto contenti. Il nostro pubblico è un pubblico mediamente moderno con un'età che è abbastanza ampia può andare dal giovane di 20 anni, 25 anni fino all'uomo o alla donna di 50 anni. Sicuramente siamo un'azienda che è attenta alla qualità, che ha un gusto che può soddisfare sia le esigenze un po' più forti, con un gusto un po' più rock, un po' più glam e anche un gusto un po' più quotidiano e contemporaneo. Quindi veramente diamo a qualsiasi tipo di consumatore di poter usufruire dei nostri prodotti e questo è quello che comunque ci ha permesso nel corso degli anni a diventare uno dei leader nel mercato internazionale perché oltre ai risultati che noi stiamo avendo in Italia devo dire che abbiamo grossissimi riscontri all'estero. L'azienda, il marchio oggi può contare su un 35% di mercato italiano, 65% di mercato estero. Vi aspettiamo pertanto nella nostra boutique in via 4 Spade nel centro di Verona.